Amici benvenuti per le offerte di questo venerdì ho fatto qualcosa di speciale cioè dei consigli utili per tutti voi che immagino una buona parte di voi sia in procinto di partire per le vacanze chi c'è già beato lui quindi se non siete ancora partiti ecco i gadget essenziali da acquistare prima di partire per le vacanze vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate il link di tutti questi oggetti più o meno particolari non perdiamo altro tempo e andiamo a vederli iniziamo con questo mini ferro da stiro a vapore vi ho detto che sarebbe stato un video con oggetti particolari e lo saranno 35 euro il prezzo utile se vi portate dietro qualche magari abito bello che si stropiccia nella valigia o comunque per non so pulire magari una casa in affitto considerando che funziona con il vapore può essere utilizzato anche in questa maniera torniamo a qualcosa in un pochettino più normale ma è neanche tanto una custodia impermeabile per smartphone e tablet se andate al mare andate in piscina prendetela che veramente può salvare la vita del vostro dispositivo elettronico poi costano inizia 6 euro magari anche più di una ve ne servirà dopodiché torniamo a un oggetto un po' particolare per tutti coloro che non possono fare meno del caffè espresso se andate all'estero se vi trovate in mezzo a una valle sperduta sulla cima sul cussolo della montagna questo sistema per fare un caffè espresso portatile è buono non lo so non ho ne ho idea però l'oggetto è sicuramente particolare 69 euro mentre vi propongo un caricabatterie ma questa volta non un caricabatterie normale c'è una batteria esterna ma che sia un vero caricabatterie solare che potete come dire aprire posizionare con i vari pannelli solari e ricaricare anche più di un dispositivo ovviamente basta che ci sia del sole o comunque della luce dopodiché immancabile uno selfie stick per ricordare queste vacanze ma questo modello che vi mostro è un po' particolare perché fa anche da treppiede quindi insomma un duplice utilizzo sono 13 euro come prezzo se avete un action cam non potete non partire senza un bel kit di accessori come questo che vi mostro con un sacco di accessori può non costare neanche tanto 20 euro ma praticamente a tutte le occasioni mare, montagna, bicicletta c'è dentro di tutto dopodiché se state per prendere un aereo attenzione al peso della valigia se non volete magari pagare un sovrapprezzo e poi questo è un oggetto che torna utile sempre anche magari per altri viaggi non solo per le vacanze appunto questa bilancia per pesare la valigia non costa molto anche in questo caso sono 10 euro un accessorio utile se avete un animale domestico, un cane, un gatto o un bambino pestifero che va in giro da sola quando siete in vacanza e volete stare un pochettino più sicuri prendete questo localizzatore gps in maniera tale che state tranquilli anche in questo caso il prezzo è limitato una ventina di euro dopodiché questo, soprattutto se viaggiate in aereo, volete viaggiare comodi, non avete particolari tasche, valigie, borse e zaini prendete questo porta documenti da viaggio in cui potete inserire tutto e non perdere niente 17 euro dopodiché finisco con un prodotto che avevo già proposto in un'altra rubrica speciale in questo caso il famosissimo cuscino struzzo che va bene non solo per addormentarsi in qualsiasi posto ma sì, per addormentarsi in qualsiasi posto serve proprio per quello magari se siete in viaggio, un viaggio stressante con l'aereo, questo fa al caso vostro qui sotto in descrizione trovate i link di tutti questi prodotti più o meno particolari di questo speciale prepartenza e auguro ovviamente a tutti voi che magari state di partire delle buone vacanze e chi di voi è già in vacanza, beh, beato lui grazie ancora per avermi seguito, vi raccomando lasciate un mi piace al video, iscrivetevi al canale e condividetelo con i vostri amici ciao